amici di gossip news ben ritrovati io sono nate questa nuovissima pillola di gossip dopo il ritiro di marco cucolo dall'isola dei famosi emergono finalmente i veri motivi che hanno portato all'abbandono del naufrago dalla playa ma nel frattempo altri naufraghi finiscono in infermeria insomma un disastro quest'anno ma ecco tutte le ultime news dall'isola dei famosi prima vi proseguire vi invito come al solito a supportare il canale mettendo un bel like registratevi cliccate la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti mi raccomando seguitemi su telegram per non perdere tutte le notifiche in tempo reale ma veniamo a noi questa è davvero l'isola dei famosi più sfortunata potremmo chiamarla l'isola dell'infermeria praticamente la sedicesima edizione del reality non è molto fortunata da questo punto di vista in continuazione i naufraghi finiscono per richiedere a certamente i medici tutti in infermeria mi chiedo quale sia il reale motivo vabbè dopo marco cucolo ed edoardo tavassi anche maria laura de vitis in questi giorni finisce in infermeria insomma affollata è questa infermeria non si sa il motivo per cui l'ex finanzata di paolo brosio si assente la playa ultimo sforzo forse si è sforzata troppo chi lo sa ma la sua assenza riguarda indubbiamente un problema di salute questo è acclarato come dice la d'urso mentre per edoardo sono arrivate subito notizie rassicuranti ieri è diventato ufficiale l'abbandono ahimè di lui quel simpaticone di marco cucolo il fidanzato di lori del santo ha dovuto lasciare il gioco ma qual è il motivo che lo ha costretto a prendere questa decisione forse gli mancava la sua lori non riusciva a stare senza di lei no secondo quanto riporta bc avrebbe accusato problemi a fegato e stomaco questo succede quando si mangia di me quando non si mangia bene e stefania bernal ammette che non si aspettava che avrebbe abbandonato il nostro marchino erano consapevoli delle sue condizioni di salute però credevano che sarebbe prima o poi tornato presto in gioco invece nada de nada gennaro auletto confessa di essere rimasto deluso quando hanno ricevuto il comunicato dell'uscita di scena di cucolo non me lo devi fare non me lo devi fare lui di notte dice gennaro diceva che non stava bene io l'ho aiutato si lamentava molto aveva dei dolori ha vomitato molto io gli sono stato vicino un po a tortino così racconta gennarino da londuras all'isola sono tutti dispiaciuti per l'addio di cucolo bene o male gli volevano un pochino bene carmen di pietro si dice molto dispiaciuta e attristita e lo dice come lei di solito declama le poesie sono molto dispiaciuta sono molto attristita sempre col punto di domanda non ho mai capito perché vabbè ma fanno comunque notare che la salute viene prima vorrei ben vedere non c'è share che tenga ecco dunque svelato il motivo per cui marchino non è riuscito a completare questa experience raggiungendo la finale per cui mancano solo tre puntate immaginate come gli gireranno gli zebedee a dire mamma mia sono arrivato lì vedevo la fine vedevo la luce in fondo al tunnel e no ho dovuto lasciare vabbè nel frattempo tutti attendono con ansia il ritorno di edoardo tavassino e beh ovviamente quest'ultimo avrebbe accusato un problema un dente e presto dovrebbe tornare tra i suoi compagni d'avventura quindi probabilmente nella prossima diretta vedremo suo ritorno con gioie e fuochi d'artificio per quanto riguarda maria laura la notizia arriva con il daytime appena andato in onda e dunque ancora molto fresca anche per lei si legge che l'assenza è legata ad accertamenti medici vabbè in honduras sembra essere poi tornata alla serenità con nicolas vaporidis che si è finalmente riconciliato con nick nick luciani il famoso anima mia ed ora ora da consigli a mercedes henger su come comportarsi quando edoardo farà il suo ritorno è perché vaporidis è altro che manuale d'amore lui ne sa pacchi in particolare l'attore invita la sua compagna d'avventura a non mostrare troppo il suo interesse in quanto pare che il tavassi l'abbia frenzonata per quei pochi di voi che ancora non sanno cosa vuol dire frenzonato vuol dire quando praticamente un uomo una donna c'è un altro uomo un'altra donna che gli fa il filo ma loro lo tengono sempre un po in stand by per la serie ti voglio bene ma siamo amici non ci potrà essere niente tra di noi ed è la roba peggiore che ci possa essere comunque non sono qui a farvi una una lezione sul frenzonamento si scaldano invece gli animi tra gennaro luca da fre questi due proprio no non si possono vedere quest'ultimo ha pescato tre pesci e ha scelto di condividerli con carmen e stefania e nicolas e ha lasciato fuori lucchino non ci posso credere ha lasciato fuori gennaro scusate ho sbagliato il nome per questo motivo auletto se l'è presa ma non poco non tanto tantissimissimissimissimo ma l'ex corteggiatore di uomini e donne non sembra pentito dalla sua scelta e lo dice con queste esatte parole non è che vado a chiamare uno che sta sempre lì a dormire mi piacerebbe che sia lui a prendere l'iniziativa senza che stiamo noi a imboccarlo modo pulito per dire non fai una beata dalla mattina alla sera intanto supply a sgamatissima pamela petrarolo non trattiene le lacrime quando scopre che il fuoco si è spento e ragazzi all'isola a noi può sembrare una roba scontata ma all'isola ai famosi se ti si spegne il fuoco so cavoli e ma so cavoli amarissimi non riesce a capire come sia accaduto forse perché non gli ha dato molto letta carissima visto che è rimasta sveglia tutta la notte per mantenerlo acceso ha avuto un attimo di defiance o capita capita però interviene lo spirito dell'isola il quale le dà la possibilità di riavere il fuoco senza che lei si deva smadonnare per riaccenderlo ma solo se rinuncerà a due porzioni di riso pamela ovviamente accetta subito la proposta l'importante è il fuoco il riso poi viene da sé tanto riso si sa che cresce dagli alberi no no vabbè comunque benissimo ragazzi queste sono le ultime news direttamente da londuras è altro che albin sono qui a raccontarvi le ultime minchiate le ultime vicende dei nostri isolani fatemi sapere qui sotto con un commento se state seguendo queste isole famose la raga ancora tre puntate poi finisce e probabilmente come ho detto in un video un paio di giorni fa finirà per sempre quindi cerchiamo di goderci queste ultime puntate vabbè goderci è un parolone perché probabilmente c'è il caso che non vedremo mai più il reality honduregno d'ora in avanti a meno che qualche altra rete se lo prendo in carico perché media se il proprio non ne vuole sapere benissimo ragazzini quindi commentate come se non ci fossero domani per il resto lo sapete mettete un like sotto questo video restate per canale cliccate la campanella e vi ricordo ovviamente di seguirmi nel canale telegram per non perdervi tutte le notifiche in tempo reale lo trovate qui sotto il mio bel facciolissimo oppure link in descrizione per non perdervi tutte le notifiche e noi ci vediamo alla prossima ciao bedazzi ciao Grazie a tutti.